Abbiamo avuto un incontro con i familiari delle vittime e con delle delegazioni da Casal Monferrato, ma anche da Bagnoli. Una riunione che è andata avanti per circa due ore, in cui tutti hanno espresso non solo le loro perplessità per una sentenza che certamente ha generato moltissimo dolore, ma anche tutte le cose che ritengono che debbano essere fatte. Quindi per noi, noi qui oggi, io insieme ai presidenti di diverse commissioni parlamentari, diverse commissioni della Camera, insieme ai vicepresidenti, alcuni deputati locali, anche abbiamo voluto ascoltare le loro richieste e da parte mia c'è intanto un grazie al fatto che loro abbiano comunque fiducia nelle istituzioni, nella giustizia, e che porteranno avanti la loro battaglia e non si sono scoraggiati. Dopodiché è chiaro che è una situazione per loro complicata, non solo per i familiari delle vittime, ma anche per gli enti locali che cercavano appunto di poter portare avanti una bonifica che oggi viene rimessa in discussione per la mancanza appunto del risarcimento. Quindi i fronti sono diversi. C'è il tema della prescrizione, io ho detto che la Camera sulla prescrizione è da maggio che sta lavorando, abbiamo tre proposte di legge, c'è anche un disegno di legge del governo che era stato appunto annunciato il 29 agosto e noi aspettiamo adesso che possiamo recepirlo in modo da fare un testo base con tutte le proposte, le proposte di legge, ma anche il disegno del governo. Quindi ci stiamo mobilitando su questo fronte, non è da oggi, non è oggi che prendiamo atto della situazione della prescrizione. Quindi li ho voluti rassicurare da questo punto di vista e al tempo stesso loro anche sanno, io l'ho ricordato, che da punto di vista dei reati ambientali la legge ha già approvato. La legge è stata approvata qui alla Camera, la legge che inserisce i reati ambientali nel codice penale. Questa legge ora è al Senato e chiaramente è importante stringere i tempi perché quello sarà un passaggio determinante. Quindi mi sento di dire che è stato un incontro interessante, non da ultimo anche il tema dei fondi, il tema appunto dei fondi che mancano e anche in questo caso io mi sono resa disponibile a un interessamento rispetto appunto con il governo per cercare di vedere se ci sono delle possibilità, ci sono dei margini per poter incrementare questo fondo che già esiste ma che a detta delle associazioni non è sufficiente. Quindi mi auguro che loro riescano a tornare a casa con la consapevolezza che lo Stato c'è, che noi siamo impegnati seriamente sul fronte della prescrizione e dei reati ambientali e mi auguro appunto che quanto prima noi si riesca a dare delle risposte concrete a queste persone. Grazie.